Ha richiesto un tempo molto lungo per la sua digitalizzazione. Oggi è diventato uno strumento di utilizzo e di lavoro quotidiano per i tecnici, quindi alla fine è un'operazione che è rivolta sostanzialmente ai tecnici più che ai cittadini. Attraverso un link che si trova nel sito del Comune di Arezzo sarà possibile da oggi entrare nel libretto dell'edificio. Di fatto un programma di gestione dati che è una sintesi dell'analisi della tipologia edilizia e della destinazione d'uso generale. Uno strumento soprattutto destinato ai professionisti che dovranno predisporre in futuro pratiche di natura edilizia. E c'è un'altra novità, presto sarà introdotta la disciplina per la promozione della qualità architettonica, sismica ed energetico ambientale attraverso la riduzione degli oneri di urbanizzazione fino ad un massimo del 70%. Un lavoro, ha detto l'assessore Sacchetti, in fase conclusiva che verrà portato in approvazione in Consiglio Comunale nelle prossime sedute. C'è molto da fare, sia ovviamente in termini di messa in sicurezza nei confronti della sismica, degli aspetti energetici. E questo è un altro aspetto in cui noi stiamo lavorando, l'ufficio urbanistica, perché colgo l'occasione per dire che nel prossimo Consiglio Comunale verrà portato all'approvazione dell'Assemblea il regolamento per quanto riguarda l'edilizia sostenibile, in cui si prevedono ulteriori incentivi per quegli interventi che vanno proprio in questa direzione, cioè di ridurre ovviamente la vulnerabilità degli edifici, anche storici.